Un bambino nomade di 11 anni è morto colpito da un proiettile partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza del carabiniero. Quanto è venuto l'avvocato ci ha detto uno è ammazzato e l'altro è ferito gravamente. Il bambino è un momento importante di riflessione per tutti oltre che un caso, una tragedia appunto su cui vogliamo far luce. Mi diceva spoiler giù, mi diceva tiravo giù la mano sai, ho detto tanto se mi vuoi lento e mi hai fatto quello di nuovo. E mi hanno picchiato tutti con i bastoni, le mani e tutto dietro perché poi di dietro si vede tutto questo che è stato anche reso pubblico, la cella era stata non solo pitta ma anche indiancata. E l'ho trovato e ho tirato la pistola e ho detto scommetti che ti ha spari, ho detto scommetti che ti ha spari, ho detto scommetti che ti ha spari. 23 settembre 1993. Noventa Padovana, un paese nell'immediata periferia di Padova. Sono circa le 10 del mattino. I carabinieri di Ponte di Brenta vengono chiamati dalla proprietaria di un appartamento di via Cappello che ha catturato due bambini nomadi mentre cercavano di forzare la porta di casa sua. Si tratta di Tarzan Sulic di 11 anni e Mira Diulic di 13, due bambini rom che vengono portati immediatamente dai carabinieri nella vicina caserma di Ponte di Brenta. Si tratta di carabinieri, i carabinieri sono venuti. Poi non mi ha visto, mi hanno messo in macchina, ci hanno tolto tutte le cose, anche le mie roba. Ci hanno messo in macchina, lui dicevano picchier bambini, sai, e ci davano i punini, questi, come si chiamano? In ginocchio. Mira e Tarzan vengono privati delle scarpe e rinchiusi in una cella piccolissima, 2,78 m per 1,73 m, con una branda metallica, con pagliericcio e materasso e senza altre aperture che la porta blindata d'ingresso, con uno spioncino e una finestrella sovrastante. Successivamente vengono portati in caserma altri due bambini rom che, rilasciati subito, ritornano all'accampamento portando la notizia del fermo di Tarzan e Mira. Hanno portato per prima mia figlia, questo cugino, il bambino, da dieci anni che hanno massato. Dopo hanno preso gli altri due bambini. Hanno massacrato questi e gli altri due bambini, lo stesso minori, da dieci anni e li hanno lasciati a piedi che sono venuti a casa. Così noi abbiamo saputo che i nostri figli si trovano in quella caserma. Abbiamo telefonato, diecimila volte con telefono loro, rispondano non ci sono, non ci sono. A quel punto dico, se questo bambino dice che ha visto suo fratello più grande da lui là, è là, non può sparire così il bambino da stamattina fino alle due alle tre. Allora abbiamo chiamato il nostro avvocato. Quanto è venuto l'avvocato? Ci ha detto, uno è ammazzato e l'altro è ferito gravamente. Tarzan è morto, con il crane traversato da un proiettile e Mira è gravemente ferita. Sono entrambi vittime dello stesso colpo, partito dalla pistola del carabiniere Valentino Zantoni, verso le 14.30, come gli stesso dichiara. Ancora prima di analizzare i fatti, risulta evidente che i bambini sono stati trattenuti nella caserma per almeno quattro ore, in violazione alle leggi che regolamentano il fermo dei minori. A prescindere dal fatto che fosse possibile arrestare o fermare Mira e Tarzan, quindi anche a tutto voler concedere, vi è innanzitutto la necessità che coloro che operano il fermo o l'arresto diano immediatamente notizie al pubblico ministero, nonché ai genitori del fatto stesso. La Croce Verde registra la chiamata alle 14.45, con un ritardo di almeno un quarto d'ora rispetto allo sparo, in una situazione in cui ogni minuto è prezioso per salvare una vita. Dalle dichiarazioni di Mira, risulta che i carabinieri hanno aspettato molto di più. Lui ha sparato, tardi è caduto giù, io non sapevo che ero ferita, sentivo solo dei dolori. Lo sapeva lui che ha detto giù, sono rimasta dieci minuti a guardare dove erano sparato, poi sono uscita da cela, ho visto che mi sono messa da fuori da cela giù. E lui è venuto in cela, poi ho chiamato quello, il poliziotto che ci ha sparato, diceva che ha sparato a noi e uno di cucina è uscito, si mettevano d'accordo, non so cosa dicevano. I genitori di Mira e Tarzan, che già avevano telefonato numerose volte ai carabinieri, vengono avvertiti dell'accaduto dall'avvocato Alberto Simeonato, che arriva alla caserma verso le 15. Assieme a tutti i ron presenti al campo, si precipitano sul luogo dell'accaduto, ma non viene consentito a nessuno di avvicinarsi, e nemmeno i genitori riescono a vedere la salma di Tarzan. I rom decidono allora di recarsi all'ospedale civile, dove Mira è stata ricoverata, e viene sottoposta d'urgenza ad un intervento per l'estrazione del proiettile, che è entrato all'altezza del seno sinistro e ha attraversato tutto il busto per fermarsi nella parte lombare sinistra. Eccezionalmente, questo proiettile non ha leso organi vitali, anche se il giorno seguente Mira verrà sottoposta ad un secondo intervento per l'insorgere di un'infezione intestinale. Sui corpi di Mira e Tarzan vengono inoltre rilevate e documentate fotograficamente contusioni che fanno pensare che abbiano subito anche dei maltrattamenti. Per quanto riguarda Mira, mi riferisco ad un complesso lesivo che è presente da un lato agli arti superiori, agli arti inferiori e alla schiena. Non si tratta quindi di lesioni antecedenti rispetto all'epoca dei fatti. Lo stesso, lo stesso, quasi lo stesso si può dire per quanto riguarda Tarzan, nel senso che anche a carico di Tarzan sono state ritrovate delle lesioni soprattutto agli arti inferiori. Ci picchiavano altri carabinieri, ci venivano, ci picchiavano con la legna, con tutto, che facevano di male. Proprio per questi maltrattamenti e per il lungo fermo subito dai bambini Rom, Amnesty International ha voluto occuparsi del caso, insedendolo nel suo bollettino semestrale europeo. Radio Sherwood apprende la notizia dall'Ansa alle 18 del giorno stesso e lancia un appello di mobilitazione immediata. La sera del 23 settembre vengono raggiunti Rom all'ospedale civile, ma l'intervento di una decina di volanti con polizie di Igos tende ad isolare i nomadi. Nonostante questo viene lanciata, in accordo con i Rom presenti, la proposta di mobilitazione in Piazza dei Signori per il giorno seguente. Dalla manifestazione del 24 settembre e dalla successiva assemblea nasce il Comitato di Controinchiesta, a cui aderiscono alcuni avvocati di Padova e varie associazioni, Lega Ambiente, Casa dei Diritti Sociali, Associazione per la Pace, Centri Sociali Occupati, Radio Sherwood, Razzismo Stop. Il successivo incontro dei Rom con il sindaco Zanonato e la domenica 26 settembre con il Presidente della Repubblica, Scalfaro, non produce che parole consolatorie, inviti a confidare nel lavoro della magistratura e raccomandazioni ai genitori di Tarzan affinché non mandino più i figli a rubare. Sempre il 24 settembre la notizia occupa le prime pagine dei giornali e dei Tg nazionali che parlano di disgrazia e dipingono gli zingari con i luoghi comuni che fanno presa sulla gente, ladri, ladruncoli, Mercedes e telefonini. Dai giornali si apprende inoltre la versione ufficiale dei fatti del PM Cappelleri, titolare dell'inchiesta, che dà immediatamente piena credibilità alle dichiarazioni dei carabinieri e cerca di giustificare l'illegittima reclusione di Mira e Tarzan e il loro lungo fermo con il rifiuto dei due bambini di rivelare i loro nomi. Le dichiarazioni del carabiniere Zantoni, raccolte dopo un'ora circa dal fatto, dal PM Cappelleri, riportano che Zantoni è entrato nella cella dove erano rinchiusi i due bambini con l'arma d'ordinanza senza colpo in canna e con la sicura disinserita. La fondina aveva la fibbia di chiusura non completamente allacciata per motivi di pronto intervento. Al suo ingresso i bambini erano seduti sulla branda. Zantoni si è avvicinato a Tarzan e successivamente si è chinato in avanti verso Mira. Si è accorto, raddrizzandosi, che il ragazzo, dopo aver sfilato la fibbia, stava con entrambe le mani sfilando la pistola che aveva impugnato per il calcio. A questo punto Zantoni assedisce di essere riuscito ad afferrare la pistola per la canna con entrambe le mani cercando di ruotarla verso il muro per evitare che un eventuale sparo lo colpisse. Ricordo di aver invocato aiuto, di non essermi accorto dello scarrellamento della pistola che ha fatto salire il colpo in canna. Ricordo poi di aver sentito lo sparo e subito dopo di aver avuto la sensazione di impugnare pienamente, ossia con presa sicura, la pistola con la mano destra. Come possono allora essere usciti sui giornali titoli e articoli basati sulle dichiarazioni di Cappelleri che parlavano di pistola in mano a Tarzan? Sentiamo ora invece la versione dei fatti raccontata da Mira. Cosa è successo? Ci hanno sparato, lui non voleva portarlo in bagno, voleva toglierlo da me per non spogliarmi, per non farmi le cose che devo fare. Lui voleva andare in bagno per toglierlo da me, per non distruvarmi, gli ho detto che voglio scoppiare indietro di te, scommo, ho tirato, aveva guanti neri, di pelle, aveva quei guanti e ho tirato la pistola, e ha detto scommetti che ti ha sparo. La versione dei fatti di Mira è stata confermata da un volontario della Croce Verde, intervenuto con l'autoambulanza, e che aveva chiesto alla bambina cosa era successo durante il trasporto verso l'ospedale. Come giustificare allora il PM Cappelleri, che interrogata Mira il 24 settembre in ospedale, dichiara che la sua testimonianza è inattendibile perché imbeccata dai genitori? Il Comitato di Controinchiesta rileva immediatamente questi altri punti oscuri e facili conclusioni nell'inchiesta condotta dal PM Cappelleri, un'inchiesta che in questo momento non è neppure un'indagine, ma soltanto un procedimento in morte di senza nessun indagato. Non è stata poi ancora richiesta una perizia balistica sull'arma, ma esclusivamente il guanto di paraffina sul bambino morto, non sufficiente a fornire dettagli utili per una precisa ricostruzione dei fatti. Inoltre, gli avvocati e i periti di parte effettuano il sopralluogo all'interno della caserma e trovano la cella completamente imbiancata. Il Collegio di Difesa delle Parti Offese decide quindi di presentare una serie di richieste al PM Cappelleri. Innanzitutto la perizia balistica e il sequestro, seppur tardivo, di tutto il materiale utile all'inchiesta. Nel febbraio 1994 le perizie confermano ciò che il comitato di controinchiesta aveva già rilevato nella ricostruzione dei fatti, prima fra tutti l'impossibilità del caricamento dell'arma durante la colluttazione tra il carabiniere, un ex parà di 22 anni, e Tarzan, 11 anni. Per armare la pistola significa che se non c'è palotola in canna e dobbiamo inserire la palotola in canna e bisogna far scorrere il carrello per farla entrare, serve uno sforzo dell'ordine di 6,5 kg. Ha una sicurezza automatica di grille, significa che quando il cane è armato, cioè tirato verso la parte posteriore della pistola, può scattare soltanto se viene premuto il grilletto, con lo sforzo necessario a farlo muovere. E' stato determinato che con pistola funzionante a semplice effetto, cioè con cane armato, serve uno sforzo di circa chilogrammi 2,2, mediamente. Con doppio effetto serve uno sforzo di circa 5,74 kg. Quindi è impossibile su questo tipo di pistola che avvenga un colpo senza che ci sia il movimento del grilletto. Quindi anche se la pistola cade per terra non è possibile scatti del cane. Quindi non è possibile determinare il colpo. Nella ricostruzione è risultata evidente l'impossibilità dell'ipotesi che l'arma fosse nelle mani di Tarzan al momento dello sparo. Come è stato riportato dai giornali è mai smentito. Il colpo praticamente è entrato in questa direzione, è uscito da qua, con il bambino leggermente orientato con la faccia verso la porta. Poi è entrato nel torace della bambina e si è fermato in questa posizione. Quindi praticamente la linea di tiro è questa. L'altezza di tiro quindi è cioè l'altezza di ingresso del proiettile sulla testa del bambino è questa che fatti i conti in base ai dati relativi al bambino all'altezza del pariericcio è sull'ordine del metro di 1,3. con l'accertamento delle posizioni della mani e delle distanze di sparo rispetto alla posizione di ingresso come minimo dovrebbero essere di 20 centimetri la misura forse è esatta è solo di 30 centimetri ma se non va a minimo la pistola dovrebbe essere in questa posizione. L'analisi delle polveri riscontrate sulla testa e sulle mani di Tarzan dimostrano solamente che il bambino ha istintivamente alzato le mani in un estremo e disperato gesto difensivo. A questo punto i dati tecnici raccolti sono sufficienti a confermare la versione di Mira. Il funerale di Tarzan Sulic si svolge sabato 1 ottobre. I media riportano la notizia nella logica della tensione. I funerali di tensione migliaia di nomadi in città tensione per la presenza degli autonomi. Al funerale i nomadi ci sono ma sono solo quelli del campo e i parenti più stretti. Ci sono inoltre tutti i gruppi che fanno parte del comitato di controinchiesta e un numero significativo di cittadini padovani. Una banda accompagna l'ultimo viaggio di Tarzan suonando la marcia funebre per un eroe di Beethoven di Beethoven. di Tarzan suonando la marcia di Tarzan La polizia affretta e fa partire velocemente il corteo di macchine che segue la salma di Tarzan e cerca di impedire la manifestazione che si apriva con lo striscione. Tarzan è stato assassinato dal razzismo di Stato. Il 6 ottobre Mira Diurici viene dimessa dall'ospedale e solo dopo qualche giorno le dicono che Tarzan è morto. Per questo si sente male ed è costretta ancora a un breve ricovero. Solo dopo due settimane, superata la crisi, è possibile festeggiare la sua guarigione. I Ron continuano la loro vita di sempre. Abituati ma non rassegnati ad essere cittadini senza diritti e bersaglio di continue aggressioni razziste, in borghese e in divisa. I nomadi continuano a rappresentare una realtà scomoda. Zingari e immigrati si possono facilmente ghettizzare e marginare e privare di ogni diritto, spesso con l'appoggio dei media e dell'opinione pubblica. Ma ogni soppruso che loro subiscono continua ad essere una sconfitta nella lotta per il diritto ad esistere. Il fascicolo riguardante la morte di Tarzan Sulice e il ferimento di Mila Diuric, che vede indagato il carabiniere Valentino Zantoni, è passato per competenza all'apretura. Ciò vuol dire che il pubblico ministero Capelleri, lette le perizie medico-legale e balistica, ha escluso che ci possa essere stata volontarietà nel gesto che ha provocato la morte di Tarzan. Ma perché allora Zantoni ha mentito su quanto riguarda il caricamento dell'arma? Perché Capelleri ha dichiarato subito che Mila era inattendibile? Perché si è cercato di far credere all'opinione pubblica che al momento dello sparo l'arma era nelle mani di Tarzan? Come pensare che la collutazione abbia provocato lo sparo ed escludere con tanta certezza che possa essere stato invece un gesto, seppur folle, di volontarietà? Grazie. Grazie. Grazie.